Quando c'è un'idea chiara si ottiene un ragionamento complessivo sulla città, altrimenti vengono fuori idee non accettabili e che creano solo confusione. Sono le parole dell'architetto Giorgio Roberti, facente parte dell'Associazione Italia Nostra, che insieme ad altri ambientalisti cerca di avere contatti con l'amministrazione comunale e di dare un proprio contributo. Roberti oggi è intervenuto sulla variante di Gimarra, fortemente contestata anche da alcuni colleghi, da politici e soprattutto da tanti residenti. L'architetto ha ripercorso i progetti che si sono succeduti dal piano piccinato, che sta sui tavoli tecnici della città dal 1963, a quelli più recenti, come il piano Guzzi. Qui siamo nella situazione invece di un piano che ancora non è stato elaborato, che ancora non c'è, che si attarda sui tavoli, che sicuramente avrà difficoltà notevole ad essere portato in fondo e si va avanti con temi alla spicciolata. Quindi questo è uno dei temi spiccioli su cui si sta ragionando. Perché? Perché ci sono 20 milioni d'euro, bisogna spenderli. Come si spendono? Un'idea facile, burocratica. Li spendiamo su una traccia di piano regolatore che c'è, che non dobbiamo fare la variante. Ecco questo. Allora, guardiamo qui cosa succede con questa idea, che è ancora più tragica di quella che c'era nel piano precedente. Infatti, ha proseguito Roberti, dall'ultima rotatoria di via Aldomoro si proseguirebbe diritti fino a questo tratto di via della trave con la realizzazione di un'altra rotatoria. Una scelta che porterebbe il traffico in questa parte della città, detto forse addirittura maggiore rispetto a quello presente oggi lungo le opere compensative che collegano la Flaminia al Belgatto. Si prosegue qui, questo l'abbiamo già detto, che è rimasto uno dei tratti fortunosamente, diciamo, ancora intatti del territorio della Valle della Zilla. Quindi, immaginiamo il disastro che provoca rispetto all'ambiente attuale della città e rispetto al futuro di una città che anche la Giunta aveva detto green, aveva detto trafficata, aveva detto, aveva detto, aveva detto, poi nel concreto arrivano i soldi, si butta per aria la Zilla, arrivano i soldi, si butta per aria questo, arrivano i soldi, si butta per aria l'idea di un porto, eccetera. Quindi è questo modo di muovere, se arrivavano i soldi si faceva anche l'ospedale privato, quindi morale. Quindi pensiamo al futuro della città e ad un presente che per il futuro può essere una carta vincente rispetto a quello che succede sugli altri territori della costa adriatica. Detto qui, in mezzo a questa, che sembra un'area indifferente, però pensare che da là a laggiù si passi, attraversando Via della Trave, in superficie, quindi non più sotto, come era previsto a suo tempo, quindi già sotto era qualcosa, passi in superficie, immaginiamo lì quel rondò che cosa diventerà. Grazie. 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 Grazie.